salve a tutti e benvenuti in questo nuovo unboxing si quando vedete le mie mani ormai lo sapete che giustamente andrò a unboxare qualcosa questa volta non più niente di gigante qualcosa di un pochino più piccolo ma molto 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 carino si lo ripeto tre quattro volte perché mi piace così bene ragazzi oggi arriva questo nintendo game and watch color screen si ci sono caduto anch'io come ha detto un famoso fra virgolette chiamiamolo così youtuber sì perché in realtà pensavo fosse un pochino meglio ma comunque mi accontento è un gadget retro sullo stampo del suo game watch originale ed è comunque a nonostante lo credevo più grande lo credevo fatto meglio lo reputo carino anche questo ha un costo abbastanza elevato ma di questo ne parleremo dopo la scatola originale è questa con tanto ancora di protezione sul retro sono mostrate le quattro modalità di funzionamento di questa mini chiamiamola così console con tanto di sigillo sia e che coprirò per relativi motivi come possiamo vedere dalla scatola abbiamo all'interno super mario bros super mario bros 2 the lost levels che come sappiamo tutti o se non lo sappiamo lo scoprirete ora sarebbe stato il seguito ufficiale di super mario bros che poi non è mai arrivato in italia e tantomeno in europa abbiamo la sua modalità classica ball e la modalità time perché farebbe anche da orologio andiamo subito ad aprirlo e vedere com'è il contenuto è abbastanza complicatino da aprire in realtà perché ha due sigilli uno di qua e uno di qua se noi andiamo a forzarne uno dei due l'altro si aprirà infatti questa bella decorazione è solo ed esclusivamente plastica plastica decorativa per dimostrare l'oggetto che a noi adesso in questo momento non ci serve più e quindi non è neanche caduta non importa la scatola originale senza la sua copertura riprende l'originale game watch ball è un giochino abbastanza vecchietto diciamolo tutti quanti era è una riproduzione di uno dei giochi originali del game watch nintendo se non sapete di cosa sto parlando vi lascio in descrizione wikipedia che vi spiegherà per bene che cos'è il game watch originale andiamo ad aprire la scatola troveremo un cavo usb tipo c per ricaricare il nostro game watch moderno che comunque bene o male non servirà perché alla fine se abbiamo un telefono di nuova generazione abbiamo comunque un qualunque caricabatteria usb tipo c che può andare a sostituire tranquillamente il cavetto nintendo ma noi per prassi lo teniamo e un'altra confezione di carta all'interno della scatola la scatola che adesso non ci serve più i suoi diciamo due manuali perché su di uno c'è un po di descrizione di quello che abbiamo in mano fra l'altro c'è anche stranamente l'italiano da qualche parte non è altro che un mega papiro bugiardino che spiega tutte chiamiamolo bugiardino anche se c'è un po assomiglia a quello dei medicinali che spiega un po tutte le funzionalità modalità di ricarica eccetera 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 a noi questo adesso non serve a nulla quindi lo ripieghiamo e lanciamo via anche questo è caduto perfetto poi abbiamo un piccolo foglietto informativo che ci spiega di un piccolo errore di programmazione da parte di chi l'ha fatto che comunque non ci interessa perché è una modalità che sinceramente non ha un ottimo uso o comunque ha un uso solo se si vuole ridere un po quindi lanciamo via anche questo e poi la famosa confezione di carta col game watch sempre più piccolo eccolo qua ha un display piccolissimo penso siano sui tre pollici forse tasti b e a la croce direzionale tasti funzione poi abbiamo l'accensione la presa o comunque il connettore di ricarica e da questa parte la cassa mono molto piccola e molto scomoda in questa posizione perché scomoda perché sicuramente andremo a metterci il dito sopra quando andremo ad usarlo andiamo ad accenderlo ovviamente l'ho caricato un pochino quindi si accenderà in tranquillità acceso finalmente modalità orologio modalità orologio molto carina che avrebbe anche un sonoro che io giustamente ho tolto per anche motivi di copyright ma devo dire che è abbastanza fastidiosa perché ogni secondo che passa su quel quadratino che potete vedere qua si sente un tic tac tic tac digitalmente molto fastidioso e non solo digitalmente in realtà anche all'orecchio è molto fastidioso premendo game abbiamo la possibilità invece di selezionare i vari giochi tra di cui super mario bros super mario bros 2 la modalità ball andiamo a vedere super mario bros per motivi di copyright sempre per quello devo toglierci il sonoro ma adesso lo facciamo andare facciamo partire e vediamo un po come com'è il gioco devo dire che questa versione di super mario nonostante che nella mia videocamera si veda malissimo devo dire che questa versione di super mario è emulata benissimo il gioco non presenta i soliti problemi da emulatore come input lag non presenta non presenta cali di frame vorrei anche ben dire che non presenta cali di frame però su alcuni emulatori devo dire o comunque anche sulle sue altre console nintendo compreso il nintendo classic mini presentava delle piccole problematiche che sono state comunque risolte da tempo fortunatamente direi anche perché questo aggeggio qua piccolissimo com'è con il suo costo se non mi funziona bene giuro che sclero super mario bros 2 the lost levels the lost levels è nettamente e molto più difficile anche in questo caso non presenta problemi ci si gioca con tranquillità ho fatto delle sì ok sono morto perché giustamente del lost levels non lo conosco ho fatto alcune prove e posso dire che funziona si può dire come l'originale l'originale che per la mia sfortuna non ho avuto modo di provare se non con super mario stars quindi giustamente non ho un paragone vero e proprio diretto dall'originale però comunque non presenta problemi che sostanzialmente ci sono sugli emulatori quindi non presenta ritardi non presenta non presenta niente si anche questo gioco si fa giocare molto ma molto bene andiamo su ball ball io non lo conosco ero troppo piccolo quando sono usciti game watch quindi non ho potuto controllare la differenza fra questo e l'originale ball è il classico gioco con mario con la sua testa che in realtà non so se sia stata un'aggiunta da parte voluta di nintendo o cosa se non ricordo male con quelle animazioni che ho visto di ball non mi sembrava che ci fosse la testa di mario ma è comunque un omaggio all'originale game watch qui non sto neanche a dirvi se funziona bene cosa o come perché funzionerebbe anche su su di un macchina caffè ecco non ha alcun paragone grafico con quello che può essere la sua versione originale perché comunque è una replica ripeto è un omaggio voluto da nintendo perché questo qui dovrebbe essere un gadget da anniversario però non so bene di preciso in quanto non mi sono documentato a dovere si ball è molto facile molto noioso soprattutto molto ma molto lento bene abbiamo provato le varie modalità c'è anche una modalità segreta che sempre per motivi di copyright non vi posso far vedere si chiama disegna e canta con mario è una modalità disegnata e pensata per i bambini che vi farà tra virgolette capire come fare facilmente un super una faccia di super mario in realtà perché questo che mostra ed è quella che ha un piccolo problemino che se io seleziono la modalità in italiano si perché alla lingua italiana questo gioco qua mi partiranno i testi in spagnolo se la seleziono in tedesco mi partono i testi in in francese e via via discorrendo c'è scritto che si può ovviare cambiando il testo in gioco nella lingua si ok ho capito ma visto che questo coso questo piccolissimo coso che sarà forse un 10 centimetri per 5 con una cassa mono e uno schermo neanche touch ma solo lcd a colori con due super mario precaricati e nient'altro a un costo di 50 euro non potevano correggerlo il software durante il test perché comunque questo oggetto nonostante sia carino fatto bene piccolino comodo funzionante tutto quello che volete ha un costo benché troppo elevato è marchiato nintendo è sovrapprezzato per quello io non lo so è un oggetto sicuramente da collezionisti quello sì niente da togliere però comunque il suo costo è veramente troppo 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 elevato soprattutto su come è presentato sulla scatola che sembra molto più grande poi alla fine ti trovi un oggettino microscopico con una cassa mono neanche stereo che questa è una cosa che mi dà parecchio fastidio e molto scomoda e sì ci resti un po così io l'ho comprato perché mi piaceva lo terrò da collezione come faccio con determinate cose ma dovessi ricomprarlo una seconda volta forse ci penserei molto perché nintendo col suo marketing sta sovrapprezzando forse troppo anche per i motivi che conosciamo della mancanza di materiali materie prime per la tecnologia ma sta forse esagerando con il sovrapprezzo di determinate cose ma va bene così alla fine se ci pensiamo su ebay con gli stessi soldi ci si prende un nintendo classic mini che fa comunque la sua più bella figura nonostante che abbia le sue problematiche di emulazione comunque ragazzi se avete curiosità volete saperne di più potete comunque sempre commentare i commenti sono sempre aperti sono sempre pronto a rispondere alle vostre curiosità le vostre domande e a tutte le vostre cose ne approfitto anche per aggiungere che ho aperto uno story bay dove troverete buona parte delle cose che ho unboxato fino adesso e anche quello lo troverete in descrizione bene ragazzi il video di oggi termina qui e ci si rivede al prossimo video